Benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlerò del Duomo di Pavia. Il Duomo di Pavia è la più imponente chiesa della città. Sull'area che attualmente occupa, sorcevano le cattedrali gemelle di Santo Stefano e di Santa Maria Maggiore. La costruzione della nuova cattedrale fu voluta dal cardinale Ascanio Sforza nel 1488 sotto la direzione degli architetti Cristoforo Rocchi e Giovanni Amadeo. Nel 1490, Leonardo da Vinci e Francesco di Giorgio Martini visitarono il cantiere dando il loro contributo. I lavori proseguirono molto lentamente a causa della mancanza dei materiali. La cattedrale fu completata negli anni compresi tra il 1930 e il 1933, anche se tuttora l'imponente opera risulta incompiuta. Al fianco del Duomo svettava la torre civica, diventata tristemente famosa a causa del suo improvviso crollo, avvenuto il 17 marzo 1989. Da allora la cattedrale ha presentato numerosi problemi strutturali. Per molto tempo è stata chiusa al pubblico. Dal 14 ottobre 2012 è nuovamente possibile accedere alla struttura. Spero vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi video. Ciao! Grazie a tutti!